La città futura, le periferie al centro dello sviluppo di Pescara, questo il tema di un convegno che si terrà domani alle 17 all'auditorium Petruzzi. Fra i relatori ci sarà anche Fabrizio Perfetto, consigliere comunale del Partito Democratico a Pescara. Perfetto, valorizzare le periferie è questo l'obiettivo, di questo si parlerà in questo convegno. Beh, certamente, lo dice anche il tema di questa iniziativa, le periferie al centro dello sviluppo di Pescara, in quanto comunque l'amministrazione punta specialmente alla riqualificazione delle periferie, tramite comunque la manutenzione e lo sviluppo di alcuni siti ormai dismessi dalla nostra città. Consigliere, questo discorso si riallaccia anche ad un discorso più vasto rilanciato a livello nazionale dal senatore Renzo Piano? Beh, sicuramente, infatti, ci vogliamo riallacciare appunto a un discorso nazionale proprio portato avanti dal senatore Renzo Piano. Per quanto riguarda questa iniziativa parteciperà comunque anche il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Inoltre interverrà anche l'onorevole Antonio Castricone, il sindaco di Pescara Marco Adessandrini e l'assessore con dedica appunto allo sviluppo e a riqualificazione delle periferie, Giacomo Cuzzi. Poi ci sarà un risvolto sociale perché ci sarà un'importante testimonianza del parroco di Fontanelle. Sì, interverrà anche Don Massimiliano De Duca, parroco di Fontanelle, più famoso Don Max, che appunto è molto vicino ai temi della periferia in un quartiere difficile come quello di Fontanelle, dove l'amministrazione già sta facendo tanto e prosegue su questo piano di lavoro su Fontanelle.